L'euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro usa quota 1,2189 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2206. Nel primo trimestre del 2021, il PIL della zona euro ha registrato un decremento più contenuto dello 0,3% su base trimestrale. Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 109,66, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 109,81. Rivista ha rialzo la stima del PIL del Giappone nel primo trimestre, che ha registrato tuttavia un decremento dall'1%. La sterlina prende fiato nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,4147 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,4252. Diminuisce il deficit commerciale americano, ad aprile che si è attestato a 68,9 miliardi di dollari. L'euro è stabile nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 133,66 con la nuova resistenza vista a 133,92. Continuano a migliorare le condizioni economiche del Giappone nel mese di aprile, con il leading indicator che si è portato a 103 punti. Grazie a tutti.